ciao ciao ricco estate si avvicina e noi siamo pronti per l'enjoy summer camp per tutti i bambini della scuola materna scuola elementare e della scuola media noi ci siamo anche quest'anno se l'anno scorso l'anno di terno splash park confermata anche quest'anno quest'anno abbiamo una novità incredibile il coccato elettrico e affrettatevi perché la produzione di marzo sta per scadere tutte le info le potete trovare sul nostro sito internet www.sgsport.it vi aspettiamo vi aspettiamo da sgsport alle joy summer camp